Io per classe sarei ancora per Noblesanime, però adesso 3 secondi e sappiamo che non tolte lo Dragorama. I cavalli entrano in dirittura con Musa d'Oriente in vantaggio lungo la corda davanti a Dragorama, Noblesanime e Sognando la Cometa. Noblesanime per linee interne Sognando la Cometa, Iolemailov e Datti. E sempre in vantaggio Musa d'Oriente davanti a Sognando la Cometa, Noblesanime, Dragorama, Iolemailov a centro pista e Datti. E sempre in leggero vantaggio Musa d'Oriente davanti a Noblesanime, Iolemailov a centro pista Sognando la Cometa mentre ferma Dragorama. E in vantaggio Musa d'Oriente attaccata all'esterno da Iolemailov, all'interno passa Iolemailov davanti a Musa d'Oriente, Noblesanime e Sognando la Cometa. E in vantaggio Musa d'Oriente sognando la Cometa. E in vantaggio Musa d'Oriente attaccata l'invendio comm?. E in vantaggio Musa d'Oriente attaccata all toàn per leimparza. E in vantaggiobudget Hoanche Summinando la Cometa. E in vantaggi e informa Gustavo letici che tubo masse di уなた, In vantaggio prodigio massimo. E in vantaggio buscar attrista a Datti. Parikhало magme,вет Grazie a tutti